I PM della Procura hanno chiuso le indagini nei confronti di un pregiudicato, il 41enne Emanuele Rocco Argenti, con la richiesta di rinvio a giudizio. È stata fissata l'udienza preliminare prevista per il prossimo ottobre. Il 41enne è accusato di violenze e minacce anche di morte poste danni dell'ex convivente, una donna di nazionalità romena che vive in città. Lei decise di interrompere la relazione, soprattutto a causa degli atteggiamenti e delle condotte violente dell'uomo. Negli scorsi mesi è stato sottoposto ad un aggravamento della misura. Inizialmente gli era stato applicato il divieto di avvicinarsi all'ex compagna, poi invece è stato destinatario dei domiciliari, avrebbe infatti continuato a minacciare lei e i familiari. Gli viene addebitato inoltre l'incendio del portone dell'abitazione nella quale vive la famiglia della donna, danneggiamento che risale a fine maggio. Secondo gli investigatori sarebbe stato proprio il 41enne ad agire. Argenti è difeso dall'avvocato Rocco Cutini e dovrà rispondere alle contestazioni davanti alla GUP del Tribunale il prossimo ottobre. L'ex invece rappresentata dal legale Francesco Incardona fu lei alla fine a denunciare i fatti stanca di subire minacce ma anche vessazioni.